Ed ecco una specialità romana. Con soli tre ingredienti di qualità realizzeremo un piatto prelibato. Versiamo in una padella capiente antiaderente dell'olio evo di ottima qualità. Aggiungiamo del pepe nero, grattugiamo tanto pecorino romano, mettiamo l'acqua sul fuoco e aggiungiamo del sale. Scegliamo della pasta che dovrà essere rigorosamente uno spaghettone grosso o tonnarelli romani. Ora che l'acqua bolle possiamo aggiungere la pasta. Giriamola di tanto in tanto e nel frattempo possiamo mettere a fiamma dolce a scaldare l'olio con il pepe. Il pepe si dovrà tostare leggermente. Scoliamo la pasta, riaccendiamo la fiamma della padella dove c'è l'olio con il pepe, giriamola immediatamente, spingete la fiamma, aggiungete il pecorino e acqua di cottura. Dovrà risultare una cremina e voilà! Ora possiamo impiattare. Eccolo qua pronto. Che dite? Vi è venuta l'acqualina in bocca? Una ricettina assolutamente da provare. Facile, con soli, ripeto, tre ingredienti. E come dicono a Roma, ma magno tutta! Buon appetito e se la ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati. Ciao da Monica, alla prossima ricetta! La ricetta la trovate nel blog www.monicaincucina.it